e ciao a tutti i taroni io sono torroncino e benvenuti in un nuovissimo video di friday night funkin oggi siamo qui sulla week di tabi a grande richiesta di leonard che notare che anche un canale youtube perciò su spolliciano anche nel suo canale iscrivetevi da tutti e due attivando la campanellina perché lui porta dei bellissimi contenuti io non lo so vabbè dai giochiamo quasi un po l'audio è lasciato e devo a parlare mi invito in un esterno mi questo solo bico si capisce tutto boy fridge questo va a chiamare il taxi questo va a chiamare il zio di no no le parole le parole signorina le parole mi devo che mi DJ dobi bobi BABY 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 bella sua roba Pepe pape Pepe pape Pepe pape ragazzi mi raccomando per questo video cerchiamo di superare i i 6 like visto che nel video di trick li abbiamo superati mi raccomando visitate anche il canale di Leonard iscrivetevi attivando la campanellina e domani ragazzi domani uscirà un progetto segreto come stavo dicendo un progetto segreto che non posso neanche spoilerarlo beh allora tabi che è un pochino tra yard boy client che se la gode e e girl client che è praticamente si sta giacchando mutande mi dissocio mi vuoi last chance no ci vuole decidere a tutti e due 3 2 2 2 3 2 3 E' la mano C'è dopo C'è pazzo C'è una che è bellissima davanti agitabile Grazie al signor Leonard per avermela consigliata C'è pazzo 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 C'è pazzo